Cambiamo adesso argomento, incontriamo il professor Gianluca Scuderi, direttore di oculistica all'ospedale Sant'Andrea di Roma, Università La Sapienza. Con lui parliamo delle malattie oculistiche degli anziani, il glaucoma prima di tutto, ma la cataratta con 500.000 nuovi interventi ogni anno e anche la maculopatia. Iniziamo dal glaucoma. Il glaucoma, che malattia è? Cosa hanno questi occhi che si ammalano di glaucoma? Sì, il glaucoma è una malattia neurodegenerativa. Oggi viene definito l'Alzheimer dell'occhio perché ha tutte le caratteristiche simili alla malattia dell'Alzheimer, cioè un deterioramento delle cellule visive, nervose, che col passare del tempo tendono a perdersi. È innescato solitamente dall'aumento della pressione oculare. È un fattore di rischio questo. Ovviamente l'invecchiamento, la familiarità sono altri fattori di rischio e dà un danno progressivo proprio alle strutture del nervo ottico. Il deterioramento dell'occhio, dell'occhio in generale, di tutta la camera. La prevenzione, la diagnosi, come si fa? Come fa il cittadino a rendersi conto di essere malato? Allora, è una malattia subdola. Vieniva definito in passato il ladro silenzioso della vista proprio perché riduce la capacità visiva molto lentamente. Quindi il paziente non si accorge subito di avere il glaucoma. Oggi in Italia abbiamo circa 800.000 pazienti di glaucoma, ma pensi che abbiamo altrettanti 800.000 persone che hanno il glaucoma e non sanno di averlo. L'unica maniera per scoprirlo è, dopo i 50 anni, almeno una visita oculistica l'anno, si va a fare il solito cambio degli occhiali, spesso e volentieri, l'oculista può in quell'occasione notare alcune caratteristiche che possono segnalare un campanello d'allarme, quindi aumento della pressione oculare, oppure guardando il nervo ottico scoprire che c'è un'escavazione. A quel punto si fanno delle indagini semiologiche aggiuntive, che sono il campo visivo, oppure lo studio delle fibre nervose. Oggi abbiamo una parecchiatura formidabile, che è la tomografia ottica computerizzata, che ci consente di vedere strato per strato la retina e le strutture nervose. E da lì poi si fa diagnosi di glaucoma. Ecco, è una malattia cronica. Le terapie ci sono o non ci sono? Che deve fare il cittadino che si ritrova a diagnosi di glaucoma? Allora, le terapie ci sono assolutamente. Le terapie sono però votate a fermare la malattia. Non si fa marcia indietro, cioè il danno che c'è non lo recuperiamo. Tutte le terapie che oggi abbiamo a disposizione sono prevalentemente indirizzate a tenere sotto controllo la pressione oculare. Quindi colliri che tengono sotto controllo, che abbassano la pressione oculare, terapie che possono essere anche laser o chirurgiche. E poi abbiamo un aiuto, ce lo può dare anche l'integrazione alimentare, la neuroprotezione per cercare di salvaguardare le fibre nervose che ancora non si sono perse. Questo è molto importante per dare una mano in più ad evitare che la malattia progredisca. Fare in modo di non far progredire la malattia, sempre con queste gocce, con questi interventi per tutta la vita? Allora, sì, le gocce vanno messe per tempi molto lunghi. A volte si può intervenire anche con il laser. C'è un laser particolare che è la trabeculoplastica selettiva. Da non molti anni c'è questa nuova tecnica, che è una tecnica minimamente invasiva, non crea danni e agisce tenendo sotto controllo la pressione. Se non basta il laser, si può anche ricorrere alla chirurgia. L'intervento classico è la trabeculectomia. Da alcuni anni, noi siamo stati fra i primi ad attuare anche queste nuove tecniche, ci sono delle tecniche mini-invasive, quindi con un rischio ridotto per il paziente, che consentono l'inserimento di microtubicini, come se mettessimo un piccolo stent per capirci all'interno dell'occhio, che drenano l'umore acqueo, quindi determinano un abbassamento e un controllo costante della pressione oculare. Ecco, il vostro centro specializzato per la cura del glaucoma a Sant'Andrea di Roma offre tutte queste possibilità ai cittadini, come è organizzato? Assolutamente sì, abbiamo sia le terapie laser che le terapie chirurgiche a disposizione, abbiamo un centro dedicato proprio alla terapia dei pazienti con glaucoma e siamo lì, siamo a disposizione. Altra grande malattia degli occhi è la cataratta. La cataratta, ben 500.000 interventi ogni anno. Com'è cambiato l'intervento per la cataratta da quando lei si è laureato pochi anni fa ad oggi? Che cosa è cambiato? La ringrazio per i pochi anni. È cambiata tantissimo, è cambiata tantissimo. Io ricordo quando ho cominciato la mia specializzazione, i pazienti con cataratta addirittura venivano ricoverati alcuni giorni. Si diceva un tempo che la cataratta deve maturare per essere operata. Tanto più diventava duro il cristallino matura, tanto più era facile, tra virgolette, l'intervento a quei tempi. Si faceva un taglio grande, si toglieva tutto il cristallino, si mettevano molti punti di sutura e il paziente doveva restare fermo 3-4 giorni, a volte si faceva in anestesia generale addirittura. Oggi noi abbiamo ribaltato completamente le nuove tecnologie, abbiamo delle tecniche mini-massive, abbiamo i laser a femtosecondi che aiutano il chirurgo nell'esecuzione dell'intervento. L'intervento è diventato ambulatoriale, dura 10-12 minuti circa per fare un intervento. E l'intervento più eseguito in assoluto è quello che ha il minor numero di complicanze, proprio per il grande progresso che è stato fatto con la tecnica chirurgica. Quindi ottimi risultati, un recupero molto rapido del paziente. Poi abbiamo le nuove lentine a disposizione. Le nuove lentine che sono personalizzate, si dice. Cosa significa personalizzare la lentina? Perché sono diverse tra un paziente e l'altro? Possono essere diverse? Sì, diciamo che più che diverso il materiale è analogo per tutti i tipi di lente. È un materiale sintetico, di sintesi, totalmente biocompatibile. È cambiata proprio la scelta del tipo di lente che noi possiamo impiantare per correggere non solo l'opacità della cataratta, quindi migliorare la trasparenza, ma correggere anche i difetti di refrazione dei pazienti, cioè togliere la miopia, togliere l'astigmatismo, togliere in parte anche la dipendenza dagli occhiali, da lettura, da lontano. Quindi il paziente che si opera di cataratta ha un miglioramento nella sua performance visiva proprio perché l'intervento consente anche di migliorare quelli che erano i suoi difetti precedenti, i difetti visivi che aveva in precedenza. Quindi dopo l'intervento di cataratta, se la lentina è graduata, non si portano più gli occhiali né le lenti a contatto. Assolutamente sì, o si portano in misura molto ridotta rispetto a prima dell'intervento. Ecco, questi risultati si ottengono grazie alle nuove tecnologie, nuovi laser. Che laser sono e cosa fanno? Laser, come dicevo, è un laser che viene denominato a femtosecondi. È un laser che noi possiamo utilizzare come un bisturi proprio, andando ad eseguire alcuni passaggi proprio dell'intervento in maniera da standardizzarlo, avere più precisione nell'esecuzione dei tagli, dei passaggi interni dell'intervento. È una sorta di aiuto ulteriore che il chirurgo ha nelle sue mani a disposizione praticamente. Altra grande malattia degli anziani, in grande aumento, numero dei casi che aumenta di anno in anno, è la maculopatia. Cos'è questa maculopatia? La maculopatia senile è purtroppo una patologia che sta aumentando. Vuoi per l'aumento di vita media della popolazione e vuoi anche per una serie di concause che possono essere alimentari, ambientali, eccetera, vediamo una degenerazione della macula. La macula è il centro della nostra retina, è la parte nobile della retina, è quella che utilizziamo per leggere, per guardare un punto da lontano, leggere una scritta da lontano. Si rovina questa parte, quindi la maculopatia è un danno del centro della retina che invalida notevolmente la qualità di vita del paziente che ne ha affetto, perché non diventa cieco, ma perde quelle che sono le sue funzioni essenziali. L'anziano ha piacere di leggere, ha piacere di guardare la televisione, di guardare il volto dei propri nipotini, perde proprio questo, quindi perde questa capacità di vedere le scritte, di vedere i contorni netti. E questo ovviamente limita notevolmente la capacità di vita di relazione. Ecco, tanti anziani colpiti, ma è un'unica forma di maculopatia o ci sono forme diverse? No, la maculopatia senile la dividiamo in due grosse categorie, una che prende il nome di maculopatia umida o proliferativa, che vuol dire, cioè si creano all'interno di questa retina rovinata, di questa macula rovinata, dei neovasi che si attivano in maniera anomala e tendono a creare poi un sanguinamento, un'alterazione della conformazione della retina, per la quale abbiamo a disposizione dei farmaci che sono iniettati all'interno dell'occhio, sono i cosiddetti anti-VEGF, cioè anti-vascular growth factor, cioè determinano un blocco della ploriferazione di questi vasi e sono delle punture che vengono fatte continuamente per tenere sotto controllo la malattia. L'altra grossa categoria è invece la maculopatia cosiddetta secca o atrofica, in cui il tessuto retinico non ha questo sviluppo di vasi, ma ha un deterioramento del tessuto stesso, cioè si ha un'atrofia del tessuto e sul quale attualmente non abbiamo ancora a disposizione delle terapie mirate, ma dobbiamo basarci soltanto su quelle che sono la cosiddetta integrazione alimentare, cioè l'utilizzo dei nutraceutici. Abbiamo molti studi al riguardo, ci sono degli studi importantissimi epidemiologici che fanno vedere come se noi in maniera precoce, per tempo, cominciamo a dare una supplementazione alimentare. Ecco, facciamo un esempio. Sì, per esempio vitamina C, vitamina E, carotenoidi, luteina, ziaxantina, zinco, cioè questo pool di elementi che devono essere presi in maniera continuativa, riusciamo a rallentare la progressione di questa forma secca. In maniera importante è quasi un 25% di riduzione della progressione. Importante è diagnosi precoce, iniziare precocemente anche questa integrazione. Vi sono anche dei test genetici che si possono fare per vedere se c'è una predisposizione a sviluppare questa maculopatia. Tutte armi che abbiamo in mano per contrastare questo invecchiamento. Ecco, la nutrizione ha un suo ruolo importante nella maculopatia, anche nel glaucoma? Sì, direi più che la nutrizione, l'utilizzo dei cosiddetti neuroprotettori, cioè delle sostanze che hanno un'azione di neuroprotezione, le quali agiscono dando un aiuto alle strutture nervose, alle cellule nervose, alle fibre nervose a non deteriorarsi. Quindi in quel senso, poi ovviamente una buona, una sana alimentazione aiuta, cioè se utilizziamo alimenti ad azione antiossidante che non sviluppino infiammazione, perché poi alla base di queste malattie, sia la maculopatia, sia il glaucoma, è stato visto che c'è un processo di infiammazione cronica, di ossidazione delle cellule e dei tessuti che poi porta a morte queste cellule. Quindi alimentarci in maniera sana, ridurre quelle che sono il fumo, per esempio, le cattive abitudini, sono tutte possibilità in più che possiamo giocarci per contrastare questo invecchiamento oculare, che però poi è l'invecchiamento di tutto il nostro organismo. Ecco, nella maculopatia ci sono dei farmaci, si parla tanto di piccole gocce, di piccole iniezioncine? Sì, sono quelle che dicevo prima per la forma umida, per la maculopatia proliferativa abbiamo queste iniezioni che vanno ripetute a distanza ogni mese, due, il paziente è costretto a fare queste punture all'interno dell'occhio che non sono dolorose, ma sono ovviamente un fastidio continuo che il paziente ha dove deve sottoporsi a queste punture. E il farmaco ha lo scopo di arrestare la proliferazione dei vasi. Recentemente è stato messo in commercio negli Stati Uniti, ancora in Europa non ce l'abbiamo, in Italia non ce l'abbiamo, un farmaco anche per la forma secca che si inietta all'interno dell'occhio. Però questo ancora è all'inizio. Successi nei prossimi anni. Ricapitoliamo un po' per la diagnosi precoce nelle malattie degli anziani. Il consiglio da dare per fare diagnosi precoce, quindi in pratica prevenzione, nel glaucoma. Cosa consigliare all'anziano? Io direi consigliare non solo per il glaucoma ma anche per la maculopatia, ma anche per la cataratta, un controllo periodico dall'oculista. L'oculista almeno deve diventare, come dire, un nostro alleato nello sconfiggere queste malattie. Dopo i 50 anni ogni due anni una visita, dopo i 60 deve diventare annuale. Proprio per fare la diagnosi in maniera precoce e poter attuare tutte le strategie per contrastare la progressione di queste malattie. E per la cataratta andare subito dall'oculista a chiedere subito l'intervento oppure aspettare, aspettare? No, allora per la cataratta non abbiamo necessità di correre a togliere il cristallino a sostituirlo. Oggi c'è molta più richiesta di interventi precoci ma essenzialmente per un motivo. L'anziano di oggi non è l'anziano di 50 anni fa. L'anziano di oggi è una persona che vive sul monitor, vuole leggere, vuole guidare la macchina, vuole essere indipendente, non vuole dipendere dai propri familiari, vuole una qualità visiva elevata. L'anziano di 50 anni fa era diverso, aveva meno di queste richieste, quindi era più, come dire, avvezzo a sopportare una perdita visiva. Oggi se già c'è un piccolo abbassamento di vista, quello che ci chiedono i pazienti, professore interveniamo perché voglio riguidare, non voglio interrompere la mia patente. Per l'amaculopatia, i consigli da dare, qual è il momento in cui sospettare che qualcosa non va? C'è un test semplicissimo che può fare chiunque a casa. Prendete un quaderno a quadretti, fate un puntino al centro, chiudetevi un occhio, guardate il puntino e vedete se i quadretti sono perfettamente allineati. Se notate anche un minimo di irregolarità nel quadretto, andate dall'oculista, perché questo è un test, si chiama test di Amsler, è un test facilissimo, si può fare a casa tranquillamente. Quindi l'anziano può fare diagnosi precoce, in questi casi la diagnosi precoce è prevenzione, perché operare una cataratta presto, intervenire nel graucoma o nell'amaculopatia presto significa avere successo nelle cure. Assolutamente sì, prima si fa diagnosi, prima attuiamo la prevenzione, migliore sarà quello che porteremo a casa come risultato finale. Anche per oggi abbiamo finito, ci rivediamo la prossima settimana con altri argomenti di medicina. Arrivederci. In collaborazione con FB Vision Insight Loli Farma Pierre Fabre